Tutti molto interessanti e tra l'altro facendo parte della giuria una particolarità, il dal vivo che si differenzia molto dalla lettura dei progetti, quindi si valutano altre caratteristiche dei presentatori dei progetti, oltre a quello di averlo scritto, pensato, la fase interessante è stata come l'hanno presentato dal vivo in 5 minuti, quindi ci sono alcuni progetti che hanno avuto valutazioni da parte mia in una prima fase letta di un certo tipo, hanno visto aumentare o decrescere la loro potenzialità nel momento in cui le hanno date dal vivo, perché cambia l'importanza della comunicazione, assolutamente sì. Come le sembra questa esperienza di WIRE? È utile? È molto utile, ho avuto altre esperienze similari a quella di WIRE, quindi il classico barcamp americano, esperienza molto presente in America, poco utilizzata in Italia, però è un momento importante dove un giovane che ha avuto un'idea ha un momento e una platea competente che può valutarlo. Faccio l'esempio di questa giornata dove dei ragazzi di un istituto superiore, l'ITIS di Frascati, hanno avuto un palcoscenico dove presentare un'idea, un'idea che è stata subito presa in considerazione, se avete visto il sindaco gli ha già dato appuntamento, quindi avrà anche gambe quest'idea. Certo, un momento importante dove dei giovani possono avere una prospettiva culturale o economica, perché no?